Voglio esprimere per mezzo dell'opera Vortex partecipazione e vicinanza alle donne iraniane, imitando con un altro gesto il loro gesto del taglio di ciocche di capelli che sta diventando un simbolo di lotta in tutto il mondo. Il gesto nell'opera Vortex è una spinta, un incitamento, una dichiarazione di solidarietà che chi vuole tra i presenti può fare insieme a me. Grazie a tutti.